Ciao a tutti, dal mio viaggio a Torino Virtual Tour, mi chiamo Anello, vi presento un altro progetto che spero che vi faccia piacere. Il progetto riguarda i negozi di Torino, quindi non tutti i negozi, è impossibile, ma qualche negozio magari particolare e che sia anche magari caratteristico della zona che tratteremo. Quindi seguiteci, fateci sapere nei commenti come vedete questo progetto e come magari anche qualche suggerimento per migliorarci. Grazie e ciao a tutti.